Non c'è stato un incontro, ce ne sarà un altro, ormai basta, non c'è più motivo di parlare. Noi in agenda e in calendario non abbiamo niente, poi ovviamente ci sono persone educate, rispettose, mi sembra che l'abbiamo molto dimostrato. Si aspetta un altro invito riparatore, diciamo. Ma guardi, io onestamente non mi aspetto niente, le devo dire la verità. Quello che mi aspetto, che mi sembra giusto, anche per chi fa il suo mestiere, ci segue 365 giorni l'anno da molto tempo e che è indispensabile portare rispetto al mondo dello sport, perché questo è proprio il mio dovere ricordarlo, ma soprattutto farlo tutte le volte che mi sveglio.